punto basket primo appuntamento con punto basket tv il canale video del basket agropoli non c'è due senza tre la bcc agropoli oro giallo vince con il trapani e conquista la terza vittoria consecutiva prova superlativa dei ragazzi di padron giulio russo che difendono la mure casalinche contro una big del campionato trapani seconda in classifica paternoster confirma i dieci giocatori vittoriosi nella trasferta di gaeta stanno attraversando un momento di forma fisica smaiante e ce lo confirma il massaggiatore fisioterapista walter guida i ragazzi godono di ottima salute sono tutti stanno tutti bene fisicamente tranne il capitano palma che in settimana ha avuto un piccolo acciacco alla caviglia però ha recuperato bene quindi sono ottimisti e speriamo di fare una buona prestazione quindi in bocca al lupo a tutti il quintetto che schiera in partenza paternoster e con ferrara play di capo ai siepovici esterni i lunghi mammugi e tagliabue mentre coach priulla in assenza di rizzitiello si affida all'esperienza di virgilio e valentino assoluto protagonista del primo quarto e di capo che sigla 12 dei suoi 30 punti nella prima frazione punto basket